Corso Italia blindato per un'ora e mezzo, chiusura di alcune attività al pubblico per consentire la sfilata del corteo in tutta sicurezza ed infine una lunga serie di divieti in Piazza Grande, così l'amministrazione comunale di Arezzo si prepara alla giostra del Saracino. Tre le ordinanze firmate dal primo cittadino Alessandro Ghinelli affinché la manifestazione possa svolgersi nel miglior modo possibile e soprattutto in piena sicurezza. Le ordinanze che hanno a che fare sostanzialmente con la chiusura dei negozi in Corso Italia per il passaggio del corteo durante la giostra che hanno a che fare con lo sporzionamento e con la vendita di alcolici e con lo sporzionamento e vendita comunque di bevande che devono essere somministrate soltanto attraverso bicchieri di plastica. Sono le classiche misure di sicurezza che comunque tutti gli anni emettiamo, ce n'è quella in più e quella che riguarda la chiusura dei negozi del Corso che però è un'ora e mezza perché va dalle tre alle quattro e mezza, quindi è un modesto sacrificio che chiediamo per mantenere le condizioni di sicurezza su Corso Italia, fortemente richiesto dalla Prefettura e dalla Questura ma mi hanno trovato perfettamente d'accordo, la rinuncia sarà modesta rispetto al risultato scenico perché oltretutto questo passaggio sul Corso sarà veramente bello.